Nuoro ieri ha ospitato la terza edizione del Festival Internazionale di Suine e Danze Nugoresas Folk, un evento organizzato dal gruppo Folk Nugoresas che in questi anni si è distinto per una serie di iniziative volte a vaccizzare la vita culturale della città. Basta ricordare la sfilata in occasione del Carnevale. Ieri un lungo fiume colorato, fatto dai costumi tradizionali sardi, ha attraversato le vie del capologo barbaricino partendo da Piazza della Stazione. A sfilare, al ritmo di canti e musica, i gruppi che hanno preso parte alla rassegna. Non solo quelli della tradizione popolare sarda, ma anche quelli provenienti dalla penisola, dall'Europa, dal Centro America o dalla lontana Asia. Così, lungo Via La Marmo e il Corso Garibaldi hanno sfilato il gruppo de San Nugoresas, il gruppo Folk Tiscali di Dorgali, il gruppo Folk Burgos e quello di Osilo. Dalle Marche è arrivata in città la formazione folcloristica tra i nanà, mentre l'Ungheria è stata rappresentata dal gruppo The Forest Folk Ensemble, che hanno eseguito dei balli tenendo in equilibrio sul capo una bottiglia. Dal continente americano e precisamente da Porto Rico è arrivato il gruppo congiunto Folk Luriki-Warinet. Ma la palma per il viaggio più lungo è andata al gruppo arrivato dalla Repubblica della Burazia, uno stato membro della Federazione Russa che si trova al confine con la Mongolia, in pieno continente asiatico. Un corteo animato da canti e balli con i gruppi che si sono esibiti lungo il percorso a beneficio del pubblico che ha apprezzato queste note di colore che hanno animato la serata nurese altrimenti contraddistinta dalla noia. La sfilata ha avuto la sua degna conclusione in piazza Sebastiano Sata dove le formazioni Folk hanno dato vita ad una serata all'insegna della danza e della musica. Tra le manifestazioni di contorno alla manifestazione Nugoresas Folk, una fiera di artigiani e obisti che hanno animato i giardini di piazza Vittorio Emanuele con un mercatino in cui sono stati esposti prodotti e articoli spesso frutto dell'inventiva e della fantasia degli artigiani. Una rassegna che riesce sempre ad attirare tanti curiosi.